In occasione della Sagra dei Ceci e dello Zafferano a Navelli, nella cornice di Palazzo dei Roccis, il Consorzio di tutela dello Zafferano DOP dell'Aquila ha organizzato il Cooking Show a tavolo con lo zafferano. Un'esperienza sensoriale unica che ha potuto far riscoprire i sapori dei prodotti tipici. Ceci, formaggi, vino ed ovviamente il re, lo zafferano. Nell'iniziativa si è potuto osservare da vicino la preparazione di alcuni piatti, semplici da cucinare e portare sulle tavole di tutti, che esaltano molto il gusto dei prodotti tipici locali. Si è voluto andare alla ricerca dei sapori antichi che allietano da sempre il palato di tutti. Con questo evento abbiamo voluto raccontare l'utilizzo dei nostri prodotti tipici attraverso le mani e la voce di uno chef del Mario Capuano del Gusto Bistrò dell'Aquila che ci ha proposto due piatti alternativi per utilizzare i ceci e lo zafferano. Quindi abbiamo avuto da un lato un'insalata fresca di ceci con alcune verdure di stagione e dall'altro un flan agli spinaci accompagnato da una crema allo zafferano e da una cialda croccante allo zafferano, accompagnata anche da mandorle tostate, mandorlo che è un altro aspetto tipico della produzione navellese con i bellissimi mandorli in fiore che possiamo ammirare nell'altopiano in primavera. Accanto alle preparazioni dello chef, preparazioni che ho chiesto espressamente che fossero dei piatti replicabili in modo tale che le persone intervenute abbiano avuto anche una spinta, un'idea per realizzare qualcosa che possano fare nelle loro case con le loro mani, quindi con i nostri prodotti tipici di eccellenza. Ma abbiamo degustato anche un trittico di formaggi prodotti dall'azienda La Porta dei Parchi di Anversa degli Abruzzi e abbiamo accompagnato il tutto con dei ceci dolci che vengono venduti anche qui in Sagra e da un calice di vino cerasuolo prodotto dalla cantina Cantinarte che è legata anche al nostro territorio perché ha impiantato proprio qui a Navelli una vigna per una produzione di un pecorino di montagna. Grazie a tutti.